Ci pensi mai che magari invece che essere qui adesso a chissà forse vado agli europei magari potrebbe essere tutto anticipato di un anno e staresti qui tra i quasi certi agli europei? Ma no, credo che ci sia un destino e se il mio destino era quello è giusto così. Sì, è stato un periodo brutto, però mi ha fortificato molto questa cosa dell'infortunio che mi ha fatto ancora rendere conto di quanto sia importante il campo da calcio per un giocatore. Quindi sono non felice di aver affrontato quella situazione, ma comunque mi sono reso conto di essere fortificato ancora di più.